Come è la storia della mia vita? Per fare questo mestiere, tant'è vero che poi l'ho rinnovato negli anni, l'ho cambiato, lo aggiorno e adesso che lo sto facendo così tanto in quest'ultimo periodo sto pensando addirittura di magari che è finita questa fase e bisogna prepararne un altro, cominciarne un altro. Beh questo nasce come una conferenza nel senso che come racconto anche al pubblico nel prologo mi chiese un'università, mi chiese di fare un intervento, di preparare un intervento di un'ora su Shakespeare perché l'ho messo in scena due volte e io trovandomi nel disagio di non essere né un oratore né un professore né un attore decisi di scrivere l'intervento. E scrivendolo mi resi conto che avevo dentro tantissima roba che neanche io mi rendevo conto di avere da dire e raccontando di Shakespeare in qualche modo e del mio rapporto con Shakespeare raccontavo di me, del mio rapporto con la vita, del mio rapporto con il mio lavoro, con il mio mestiere e con quella che forse può essere definita una vocazione. Ma questo forse aspetta gli altri dirlo. Non esiste cultura se non c'è esperienza di cultura e la cultura ti deve riguardare profondamente perché ti riguarda personalmente. Quindi niente deve essere imposto coattamente, tutto deve essere mangiato, metabolizzato, personalizzato, personificato. Tutti dicevano Shakespeare, Shakespeare, Shakespeare è perfetto, Shakespeare di qua, Shakespeare di là, io andavo a vedere la teatro e mi sparavo dalla noia. E poi invece quando l'ho affrontato io e quindi sono entrata dentro per causa di forza maggiore all'interno del suo mondo e della sua materia e del suo metodo, l'ho amato profondamente perché Shakespeare probabilmente è epico. Non mi interessa il teatro dove non capisci niente, non mi interessa il teatro dove ti annoi, non mi interessa il teatro che si rivolge a un'elite che ha il privilegio di potersi permettere, per via dei soldi e per via degli strumenti culturali, questo tipo di intrattenimento spesso prettamente intellettuale. Non mi interessa il teatro come luogo per pochi spiriti eletti. Mi interessa un teatro invece che va alla radice della relazione tra esseri umani. Il teatro è un media e non è un mass media, quindi per quanto possa influire non influirà mai come una puntata dell'Isola dei Famosi sulle coscienze della gente. Rimane purtroppo, nonostante quello che ho detto prima, una forma di cultura di nicchia perché il numero è quel che l'è. La strada, la soluzione in questo senso diventa molto civile, è quello di erradicarsi in ogni territorio, anche nei più piccoli, nel fare teatro ovunque. Quindi cerco continuamente punti fuori di me, punti che in qualche modo mi diano la certezza che io parlo anche agli altri, agli interessi degli altri. Per fare questo tu mi dirai come fai, snaso la società che mi circonda, leggo i giornali, se vado in metro ascolto, osservo, mi lascio, cerco di prendere, di ascoltare gli stimoli. Guardo gli occhi delle altre persone, vedo il loro incedere nelle strade, li osservo come vanno al bar, come si parlano, ascolto i silenzi che hanno e cerco di dedurre quali sono i loro veri grattacapi, i loro problemi, le loro paure. Io vorrei che i miei spettacoli facessero battere il cuore, vorrei che gli spettatori diventassero tutti i miei amanti, ovviamente certe volte ci riesci, altre volte no, però è la vita di un artista finché ci è data la possibilità di esistere, di vivere, quindi con degli alti, con dei bassi, però fondamentalmente cerco sempre questo, sia che faccio la Cimice, che faccio Saviano, che faccio Romeo e Giulietta. Grazie a tutti.